2,6 milioni di giocattoli potenzialmente pericolosi sequestrati dalla Guardia di Finanza di Torino. E' l'operazione effettuata dalle fiamme gialle che hanno rinvenuto il materiale, già imballato e pronto per essere immesso sul mercato, in due grossi depositi gestiti da due imprenditori di origine cinese, importatori e distributori per la Lombardia e il Piemonte, dei giocattoli con tanto di certificazioni di conformità qualitative e composizione tutte rigorosamente false. Tra gli articoli sequestrati migliaia di braccialetti e brillantini potenzialmente tossici e nocivi in quanto sprovvisti di una qualsivoglia indicazione circa la loro composizione, il tutto con evidenti e gravi rischi per la salute dei piccoli consumatori. L'operazione dei finanzieri ha visto coinvolti due imprenditori sessantenni cinesi, titolari delle aziende di Monza e Sesto San Giovanni in Lombardia e di Beinasco nel Torinese che si occupavano dell'importazione e della successiva distribuzione dei prodotti illegali. Il valore della merce sequestrata si aggira intorno ai 4 milioni di euro. Per i due imprenditori denunciati l'accusa è di frode in commercio e rischiano sino a due anni di carcere, irrogati in oltre sanzioni per oltre 100 mila euro.